Kagoshima è Napoli, il più antico gemellaggio fra una città italiana ed una giapponese. Un patto stipulato nel 1960 che si rinnova attraverso continui scambi culturali, in particolar modo fra giovani e studenti. Una delegazione di rappresentanti della città e del governo locale è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo secondo una tradizione che si ripete da tempo. Il clima mite e il paesaggio della Baia di Kagoshima, dominata dal vulcano Sakura Ima, creano una forte somiglianza con la città partenopea. Kagoshima è infatti soprannominata la Napoli d'Oriente. L'atto di amicizia che firmerò adesso con il sindaco significa l'impegno di consolidare ancora di più i nostri rapporti, soprattutto nella cultura, nell'economia, nel commercio e nelle ricchezze delle nostre comunità. La città giapponese ha dedicato un viale alla città di Napoli, proprio come a Napoli c'è una via Kagoshima. Anche alcune linee tramviarie portano il nome della città di Napoli. Grazie a tutti.